Nella mattinata odierna i militari del gruppo della Guardia di Finanza della Spezia hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla locale procura nei confronti di un cittadino bengalese condannato in via definitiva alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per i reati di associazione a delinquere, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L'arrestato era l'unico che nel blitz del novembre 2020 sfuggì all'esecuzione di sette misure cauterari personali emesse nell'ambito dell'operazione delle fiamme gialle spezzine dal nome Duralabor che portò alla luce, per la prima volta alla Spezia, un vero e proprio sistema di caporalato all'interno dei cantieri navali dove operai stranieri venivano costretti a pesanti turni di lavoro per stipendi molto inferiori ai minimi sindacali. Chi cercava di ribellarsi veniva minacciato di danni fisici alla sua persona e componenti della sua famiglia rimasta nel paese di origine. Dopo le formalità di rito l'arresto è stato convalidato presso la locale casa circondariale. Oltre al predetto sono già stati condannati in via definitiva per analoghi reati altri sei stranieri per un totale di 17 anni e quattro mesi di reclusione e una multa di 31.000 euro.